buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di fast piccoli comuni ambito a questo è il settimo di questo nuovo ciclo di webinar che stiamo conducendo per accompagnare i piccoli comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse di fast ambito a verso diciamo la transizione digitale accompagnano diciamo questi webinar di approfondimento accompagnano le attività che stiamo facendo con voi nei territori sapete e questo appunto lo dico per i colleghi che fossero per la prima volta collegati con questo webinar che fast è un progetto che supporta i piccoli comuni italiani nella transizione al digitale che il nostro obiettivo è quello di diciamo far sì che i vostri progetti di transizione digitale abbiano successo e che sia diciamo e aiutarvi in qualche modo a pianificare a pianificare la transizione al digitale facendo con voi supportandovi anche nella realizzazione di alcuni micro progetti che vengono scelti sulla base diciamo del della fotografia che insieme con voi viene preventivamente fatta con ogni singolo comune nel senso che facciamo un abbiamo un'attività di assessment nella quale appunto viene fatta una fotografia dello stato di digitalizzazione dell'ente c'è un primo confronto con i referenti del comune e a seguire insieme diciamo ci diamo delle priorità e scegliamo i micro progetti sui quali lavorare insieme nei mesi successivi come sapete alla manifestazione di interesse avete aderito in 285 comuni che sono sparsi su tutto il territorio nazionale sono ormai oltre un anno che stiamo lavorando con molti di voi diciamo abbiamo già avviato le attività con altri le attività devono ancora essere avviate ma insomma lo faremo anche perché diciamo la scadenza poi del nostro progetto è dicembre del 2025 quindi diciamo abbiamo ampi margini per continuare a lavorare con con voi tutti oggi diciamo faremo in questo webinar il prossimo incontro ecco vi dico subito il prossimo incontro sarà l'11 luglio quindi intanto mettetelo in agenda e sarà appunto un webinar che insisterà su come diciamo i piccoli comuni possono in qualche modo anche attraverso la messa insieme di funzioni cioè funzioni in forma associata dell'RTD dell'ufficio del responsabile della transizione digitale fare un po come dire massa dove appunto sappiamo in quelle situazioni in cui sappiamo nei piccoli comuni diciamo c'è poco personale e magari non ci sono tutte le competenze tecniche per svolgere questo ruolo importante. Veniamo al webinar invece di oggi che è questo e il nostro relatore è qui già in video è David Harris che avete già conosciuto perché ha diciamo condotto alcuni dei webinar che abbiamo fatto sulla 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 sicurezza in particolare e oggi invece parleremo delle delle contrattualizzazioni e di tutti diciamo le dimensioni che sono che è necessario controllare e verificare proprio nei contratti ICT e questo anche per rendere in qualche modo quelli che sono stati finanziamenti che ci sono stati del PNRR più efficaci e come di far sì che appunto si arrivi anche all'asseverazione e quindi poi al riconoscimento dei finanziamenti diciamo sulle attività che immagino molti di voi stiano stiano facendo. Abbiamo pensato di arricchire la presentazione di David Harris che appunto avete già conosciuto lui appunto è stato direttore generale del comune di Sassari ha avuto un ruolo importante diciamo anche nell'azienda regionale Sarda che si occupa appunto dell'informatica e abbiamo pensato di intervistare sarà appunto Claudio Forghieri un altro nostro consulente del progetto FAST che appunto ci aiuta un po' nel coordinamento tecnico scientifico di questo progetto che è piuttosto diciamo complesso intervisterà Massimo Poletti che è appunto il responsabile dei servizi informativi della di Parma no di Ferrara scusate ogni volta sbaglio del comune di Ferrara e lui appunto ci racconterà un po' diciamo qual è stata la sua esperienza e quali sono i punti di attenzione che poi appunto David diciamo illustrerà più nel più nel dettaglio. Al solito troverete le slide e la registrazione di questo webinar nella pagina della notizia che è riportata qui e anche nell'intervista che appunto Claudio Forghieri farà a Massimo Poletti sarà sempre disponibile nel nostro focus e nella sezione la parola ai protagonisti troverete qui trovate qui diciamo i link e io a questo punto ecco vi ricordo soltanto diciamo che alla fine del webinar ma poi ve lo ve lo ridirò potrete ovviamente porre porre le domande al nostro nostro relatore e appunto qualunque anche curiosità necessità eccetera insomma proveremo per quel che è possibile a dare una una risposta insomma a fine della sua della sua presentazione e alla fine del tutto sarete portati su una pagina dove potrete esprimere il vostro gradimento rispetto a questo webinar vi preghiamo di farlo perché è molto importante il vostro parere se ci sono cose che pensate anche nel format che dobbiamo cambiare o in qualche modo ci sono temi che possono essere di vostro interesse vi prego di segnalarcelo e direi che David se vuoi io mi interrompo la condivisione e prego ti do la parola grazie va bene buongiorno a tutti come ha già detto Irene oggi vogliamo parlare di diversi argomenti che saranno sintetizzati nelle testimonianze di dottor Poletti però prima di passare la parola a mio collega Claudio Forglieri e dottor Poletti voglio fare un brevissimo accenno su qualcosa che verrà discusso in quell'intervista e che poi lo rivedremo successivamente e ciò che vorrei farvi notare oggi è una breve discussione su per chiedere esattamente cosa intendiamo per cloud perché il cloud è un insieme di tre e diciamo servizi tipologie di servizi distinti la prima guardandolo come fosse un piramide e all'apice abbiamo il cosiddetto software as a service il SaaS ed è lì che i comuni contrattualizzano con i loro fornitori quando fanno il passaggio in cloud quindi il comune fa un contratto con Hali, con i Maggioli, con Data Group eccetera a quel livello per il sistema informativo gestionale loro forniscono il software come un servizio però il cloud nel suo interesse è composto di altri due livelli che il comune tipicamente non vedi sono livelli chiamati, il secondo lì si chiama platform as a service ed è lì che i veri Hali, Maggioli eccetera sviluppano il loro software e il livello più basso è infrastruttura come servizio ed è lì che sta il hardware, i dischi, i server eccetera quindi a quel livello più basso stiamo parlando dei grandi data center e questi sono tipicamente gestiti e certificati sono certificati dall'ACN che è l'azienda per la ciber sicurezza nazionale e tipicamente sono i grandissimi centri di infrastruttura fatti da Microsoft, Google eccetera vostri fornitori di sistema informativo fa un contratto di cosiddetto secondo livello con questi grandi fornitori faccio una nota che di recente alcuni fornitori come Maggioli e Hali hanno certificato il proprio data center cloud quindi loro gestiscono dall'alto a basso ma la maggior parte dei fornitori fanno contratti con Microsoft o Google o Amazon o Telecom all'ultimo livello e il comune non vede quel contratto il comune ha un contratto di primo livello per il software ma non vede il contratto di base per la parte hardware e questo diventa particolarmente importante quando parliamo di cose come backup dei dati, sicurezza dei dati e così via perché queste attività disaster recovery, backup, riprese dei dati è gestito a questo livello dell'infrastruttura come un servizio adesso passo la parola a mio collega e a Dato Poletti Buongiorno, abbiamo il piacere di avere con noi oggi Massimo Poletti, dirigente del servizio dei sistemi informativi del comune di Ferrara Massimo, benvenuto il tema oggi è il rapporto con i fornitori AST e tu hai una lunga esperienza in questo campo il primo ambito che vorrei esplorare insieme a te è quello dell'interoperabilità tra i vari gestionali in particolare la luce dei nuovi siti web realizzati con i fondi del PNRR qui sappiamo che spesso nell'area cittadino attivo bisogna che i diversi applicativi si parlino e spesso ci sono vari fornitori coinvolti che tipo di problemi si possono incontrare in questo ambito? Diciamo che il tema dell'interoperabilità tra gli applicativi è sempre stato un grossissimo problema per le pubbliche amministrazioni specie in passato quando non esistevano degli standard ben definiti quindi per far parlare tra di loro due applicativi bisognava sviluppare delle interfacce software ad hoc adesso per fortuna andiamo verso delle standardizzazioni tramite API e quindi gli applicativi possono parlare fra di loro ma il primo problema innanzitutto che mi viene in mente è un problema puramente economico nel senso che per far parlare fra di loro due applicativi bisogna pagare due fornitori che devono sviluppare la parte di interfaccia software di loro competenza quindi quando si affronta questo tipo di spesa bisogna anche avere presente che avremo negli anni successivi probabilmente un canone di manutenzione da pagare comunque diciamo che con il progetto per lo sportello per il cittadino questa problematica dell'interoperabilità è diventata sempre più importante per cui tramite l'interfaccia che il cittadino ha a sua disposizione diciamo dietro le quinte si trova a dialogare con diversi applicativi che gli devono portare sostanzialmente a video tutte le informazioni necessarie per portare a termine la sua transazione e mantenerla attiva nel tempo e infine concluderla la cosa più importante da fare e l'ho visto io quando ho aderito con il mio comune al progetto PNRR 141 è quello di coinvolgere tutti i fornitori che sono interessati alla cooperazione applicativa e fare una chiara contrattualistica una contrattualistica che metta bene in evidenza che il loro compito non è circoscritto dalla loro parte ma è un compito anche di gruppo nel senso che una mancanza di un fornitore viene a compromettere il lavoro di tutti i fornitori e molto probabilmente viene a compromettere anche l'erogazione del finanziamento che sappiamo che per i progetti PNRR di digitalizzazione è una cifra una tantum da erogare solo ad asseverazione avvenuta ma secondo te qui quello che si deve fare il carico principale chi è il gestore del sito quello che gestisce l'applicativo il protocollo allora la cosa che mi mi pesa un po' dirla ma purtroppo il carico maggiore è quello dell'amministrazione nel senso che quando c'è fornitori maggiore di uno allora sta purtroppo l'amministrazione a prendersi in carico il governo di tutto il processo quindi cosa faccio io ogni tanto faccio un sal faccio un punto della situazione faccio un check perché purtroppo ci si accorge delle volte che c'è un granellino di sabbia che ha bloccato oppure ognuno crede che il cerino sia nelle mani di qualcun altro quindi il processo va adeguatamente governato adesso ho appena fatto spero il penultimo check della situazione per quanto riguarda me e i miei due fornitori spero di asseverare a luglio però ho dovuto proprio stare molto dietro a questo tipo di progetto quindi un ruolo importante di governance proprio dello sviluppo da parte dell'amministrazione questo tipo di problemi lo incontreremo anche con le integrazioni per le notifiche digitali vero? immagino immagino proprio di sì nel senso che io non ho potuto aderire al primo giro a causa della notifica delle violazioni al corso della strada che per me era in forma associata quindi non era possibile e fra poco farò la domanda e avrò questo problema ancora una volta qui si tratterà secondo me di governare i rapporti tra il fornitore o i fornitori e i servizi interni perché gli interlocutori saranno i servizi che devono notificare cose adesso la tassonomia di notifica non era solo ancora studiata anzi ho degli incontri con il mio fornitore principale fra poco però vi garantisco che governare il dialogo fra i fornitori e i colleghi dirigenti di altri servizi non è una cosa banale perché ovviamente ci sono anche dei problemi culturali ecco certo parliamo invece della migrazione in cloud degli applicativi che è un'altra cosa che sta avvenendo a ritmi piuttosto significativi in tutto il paese qui secondo te sono tutte rose e fiori per i comuni oppure anche qui ci sono delle cautele da mantenere nei confronti dei fornitori allora come al solito di rose e fiori non c'è niente però ritengo importante segnalare che migrare in cloud è una cosa buona e giusta perché nella mia vita ho visto troppi data center nel locale delle scope ecco quindi è una cosa buona e giusta anche perché non perdo mai l'occasione per ricordare che se il mio comune ha continuato a funzionare nei confronti tutti i cittadini durante l'attacco informatico dell'anno scorso perché avevo tutti i miei servizi di front office su cloud e quindi non sono stati interessati dall'attacco quindi va bene migliorare su cloud però come tutte le operazioni in cui porti qualcosa di tuo e qui ci sono i tuoi dati nelle braccia di uno o più fornitore bisogna cercare di mantenere il controllo della situazione io per avere un approccio prudenziale per quanto riguarda i servizi da migrare nell'ambito del progetto PNRR 1.2 ho cercato di concentrare tutto su un unico fornitore quindi noi siamo un comune grosso noi abbiamo tantissimi di servizi quindi però i 21-22 servizi non mi ricordo che ho migrato nell'ambito di quel progetto sono tutti di un fornitore quindi questo mi ha molto facilitato la cosa è chiaro che per altri comuni potreste avere due tre fornitori e torniamo al discorso precedente se anche un solo fornitore fallisce poi ci rimetti tutto il finanziamento quindi ci vogliono queste clausole di responsabilità incrociata poi è chiaro che la migrazione al cloud c'è un un grossissimo pericolo di lock-in il cambio di fornitore specie per i grossi applicativi non è una cosa che si faccia spesso e a cuor leggero però può capitare ecco il suggerimento è cercare di avere una contrattualistica che non sia troppo restrittiva ovvero che abbia delle clausole che permettano un exit strategy la meno fastidiosa possibile ecco a volte poi soprattutto con fornitori diciamo di non grandi dimensioni entrano in gioco anche subappati diciamo per quanto riguarda poi l'utilizzo dell'infrastruttura cloud quindi hai un fornitore per gli applicativi che vanno in cloud e poi c'è un terzo che magari Amazon Google o qualcosa del genere e qui a volte non si vede neanche bene che tipo di subcontratto entra in pista allora il problema della supply chain dei fornitori è un problema molto molto sentito in ambito privato però anche in ambito pubblico dobbiamo renderci conto che se tu affidi al grosso fornitore X di applicativi gestionari un servizio SAS poi non è che lui possieda il data center il data center lo va a comprare da qualche altra parte ora noi come pubblica amministrazione non possiamo fare altro in prima battuta che fidarci della certificazione ACN noi dobbiamo da normativa il più possibile comprare servizi SAS certificati su marketplace ACN questo vuol dire che qualcuno per noi ha fatto questi e altri contratti però io mi sto chiedendo e sto anche esaminando chiaramente con priorità minore rispetto a altre cose dei fornitori di prodotti un po' particolari se ci sia modo poi di fare un po' di auditing anche verso questi fornitori di servizi SAS giusto per capire se veramente tutto quello che dicono è veramente realizzato ecco non sarà farsi però sono d'accordo e questo è un problema Massimo il terzo punto che vorrei affrontare con te invece è la continuità nella governance governance ICT delle amministrazioni sul territorio con il progetto FAST noi troviamo spesso situazioni in cui ci sono pensionamenti o trasferimenti che poi lasciano magari vuoto il campo delle competenze tecniche perché magari l'RTD è andato vivo è andato in pensione il risultato finale spesso è una dipendenza pressoché totale dei fornitori ST che magari si trovano anche a fare per conto dell'amministrazione quasi delle scelte strategiche come la decisione di partecipare o meno a un bando o valutare in dettaglio le architetture applicative ti volevo chiedere se anche tu hai rilevato questo problema e se sì come lo potrebbe affrontare un'amministrazione in particolare magari un piccolo comune ecco questo problema è e diventerà un grossissimo problema noi sappiamo dalle statistiche che nei prossimi cinque anni una grossa parte della pubblica amministrazione andrà in pensione credo che nel nostro ente andrà in pensione un terzo del personale ora si parla tanto di valore pubblico ma sì lavoriamo per creare valore pubblico ma andando in pensione senza alcun tipo di passaggio di consegne del personale con anni di esperienza questo valore pubblico poi lo distruggiamo ora noi sappiamo che spesso nella pubblica amministrazione la presenza di quella particolare persona che ha una particolare visione o competenza ti porta avanti i progetti per anni fino a che questa persona non scompare ecco bisognerebbe che le amministrazioni e qui c'entra anche la parte di direzione apicale e la parte politica prendessero in considerazione questi problemi almeno con un anno di anticipo poi è chiaro che nei comuni piccoli la cosa è molto amplificata sostanzialmente noi avevamo noi aiutiamo un paio di piccoli comuni a livello diciamo amichevole ma in uno di questi la persona che aveva un po' di competenze digitali ha avuto una mobilità quindi per un attimo il comune è stato completamente scoperto il rischio che i fornitori vengano a fare padroni in casa tua sono molto grossi allora in questo caso in certi contesti possono ad esempio aiutare le società in house vedo che oltre alla realtà della miglia romagna di Lepida ce ne sono altri importanti in Trentino in Veneto vedo che aiutano molto anche a Cremona c'è un consorzio questo può essere può essere un grosso aiuto ecco o forse la dimensione dell'RTD condiviso no? che comunque allora l'RTD condiviso va bene però siccome la figura dell'RTD se andiamo a leggere poi normativa è una figura che in teoria dovrebbe avere molto potere vuol dire che questo RTD viene a ficcare il naso dopo nella tua amministrazione non so quanto questa cosa si è gradita io però ne approfitto per rilanciare una mia personale un mio personale spunto chiamiamola proposta che poi tramite i social su LinkedIn ho anche rilanciato verso chi fa poi le trattative cioè di gestire una sorta di mentoring quando una persona va via trovare un modo perché poi c'è il professor di affiancare a una persona chiave uscente una persona chiave entrante per un certo periodo di mesi che potrebbe essere un po' di mesi prima dell'uscita della persona oppure trovare una forma contrattuale che adesso non credo esista per far sì che una volta che questa persona è andata in pensione per un periodo molto limitato per un orario molto limitato si affianchi alla persona non nascondo che sto pensando anche al mio caso io l'anno prossimo vado in pensione mi dispiacerebbe che tutto il patrimonio di esperienza che ho vada disperso ecco bene Massimo grazie mille per questa straordinaria testimonianza e che dire in bocca al lupo buon proseguimento grazie buongiorno bene grazie Claudio grazie Massimo adesso cominciamo ad approfondire alcune delle cose dette da Dottor Poletti e vogliamo guardare i problemi con troppi fornitori e quando non ci sono sufficienti quando è un unico fornitore vogliamo guardare un po' le problematiche ha detto che ci dobbiamo fidarci delle certificazioni e questo fino ad un certo punto come vedremo partiamo con le problematiche del passaggio in cloud e in particolare le problematiche di continuità operativa secondo il CAD all'articolo 51 ogni amministrazione ok deve assicurarsi che i supporti contenenti a meno delle coppie non siano permanenti accessibili dal sistema per evitare attacchi e così via adesso questo significa che assicurare che il fornitore del servizio infrastruttura cioè l'ultimo livello ok livello in basso fa questo tipo di assicurazioni che vuol dire che nei contratti che stipolate con i fornitori del sistema informativo il SAS a livello alto ci siano allegate queste verifiche questi dettagli l'ACN essere certificata dall'ACN ok è un prerequisito per l'ammissibilità però fino a poco tempo fa la qualifica presuppone che sia autocertificato il possesso dei requisiti però come fatto notare dall'ACN stesso le norme contrattuali associate all'uso del cloud non sono oggetti del qualifica e quindi è onere dell'ente del comune verificarle e segnalare eventuali non conformità la responsabilità è del comune e come è stato notato in un recente articolo di Developers Italia spesso i provider non si assumono la responsabilità per queste attività infatti loro dicono di solito i cloud provider nelle clausole standard dei loro contratti non assumono alcuna responsabilità per la perdita dei dati e così poi hanno estratto diversi paragrafi dai termini di servizio di un noto provider vi provide non i responsabili della perdita di informazioni eccetera oppure fate i salvi l'inderogabile limite di leggi non potrà nessun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno eccetera eccetera quindi i provider non si assumono la responsabilità abbiamo ancora altre clausole l'azienda rispondere solo dei danni diretti subiti dal cliente ok tutto il resto no in nessun caso l'azienda tal di tale risponderà alle propria azioni in debita da parte dei documenti quindi se c'è un data breach sull'infrastruttura il fornitore dei servizi IAS in questo caso non si assume nessuna responsabilità per la perdita dei dati o l'utilizzo dei soggetti che l'abbiano rubato Now fra i requisiti per la qualificazione dei cloud service provider cioè richieste dall'ACN il fornitore deve dimostrare di essere in grado di eccetera sicurezza performance interoperabilità conforme al legislativo ma a dicembre scorso l'abbiamo visto l'attacco sui server che ospitano i servizi dell'APA digitale che più di 1300 pubbliche amministrazioni comuni e enti anche più grandi sono stati colpiti perché l'infrastruttore di infrastrutture il West Pole che era certificato e fra parentesi non lo è più è stato attaccato e non aveva le copie offline dove non potevano essere attaccati ecco perché ci voleva così tanto tempo per ripristinare tutto quindi si deve non non è sufficiente fidarsi come Reagan molti anni fa Ronald Reagan in 88 ha detto a Gorbachev fidarsi è bene verificare è meglio e questo è il caso qua quindi un'altra nota inserita in un documento dell'ACN gli amministrazioni acquirenti dei servizi cloud sono tenuti a verificare che le patruzioni costituiscono parte integrante del contratto di fornitore all'interno del quale ci devono essere parte per i livelli di servizi garantiti gli fornitori deve rispettare gli obiettivi dichiarati che dovranno essere monitorabili dal comune e si deve avere una sezione per penale compensativi che il fornitore cloud corrisponde all'acquirente quindi ancora una volta se voi comprate i servizi di primo livello servizi SAS con i fornitori del sistema informativo gestionale dovete insistere negli allegati o nel contratto stesso che ci siano queste diverse clausole che sono portate al livello dell'infrastruttura modo migliore per partire è proprio dal manuale di abilitazione al cloud ho citato dove trovarlo e si può trovare lì un'introduzione alle tecniche e le procedure per gestire la continuità operativa si può anche fare un micro progetto con FAST che abbiamo uno specificamente dedicato a questi tipi di problematiche e continuità operativa sia in cloud sia per i restanti componenti del vostro sistema informativo e parlando dei restanti componenti del vostro sistema informativo vediamo qua cosa significa il passaggio in cloud completamente ovviamente si parte anche prima di passare in cloud con la connettività se non avete una banda ampia non passate in cloud non si deve avere se non fibre almeno un collegamento con ponte radio e inoltre deve assolutamente assicurare una connettività redondata perché se viene tagliato o perso la prima e principale connettività al cloud all'internet se qualcuno trancia il cavo di fibre dovete avere un backup altrimenti il comune non lavora quindi poi fatto quello si passa il software gestionale il sito istituzionale il portale le email eccetera poi eventualmente il software minore e infine si dovrà passare le cartelle in rete cioè i file server che avete in locale e la gestione del dominio che ho scritto qua come networking locale ok queste cose perché non c'è dubbio che i piccoli comuni voi avete dei data center classificati dall'agid come livello B che significa che dovrete migrare questi centri in infrastruttura cloud non una parte dei centri tutto non potete comprare nuovi server dovete migrare in cloud per quanto sia faticoso e a volte infelice e questo comprende anche questi ultimi due pezzi file server e il network e se fate tutto questo avrete un sito come per linee guida nazionale e inoltre c'è anche un vantaggio economico quando completate tutti i passaggi che si può sostituire almeno il 90% dei pc tradizionali con il cosiddetto thin client che vuol dire un pc che è fondamentalmente uno schermo e un browser che costa significativamente meno di un pc tradizionale si fa tutto online e non avete bisogno quindi del tipico desktop o anche dei portatile si può usare un thin client che costa un quarto un quinto o meno di un pc quindi ci sono vantaggi anche economici il passaggio di quelli ultimi due componenti le cartelle in rete e la gestione del networking ci sono due modi per fare questo uno sarebbe di chiedere al vostro fornitore del sistema informativo gestionale se questo fornitore gestisce in proprio una struttura cloud come dicevo poc'anzi maggiore e chiedi a loro se potete portare in cloud anche questi ultimi due componenti l'alternativa è di approfittare dal MEPA il MEPA ha costruito un bando il 10.5.2 servizio di cloud computing ok in cui si vedrà tutte le vere cose che possono essere acquisite dall'amministrazione quindi capacità di computazione cioè potenza del server storage la rete e altri componenti si può avere la creazione dei server virtuali monitoraggio dei sistemi e reporting quindi si può comprare a prezzi molto competitivi tramite MEPA questo tipo di servizio dell'ultimo miglio gli ultimi componenti capita che un comune non vuole passare le cartelle e l'amministrazione della rete locale diciamo il dominio Microsoft Windows in cloud ma anche perché alcuni amministratori di sistema lo consigliano ma oggettivamente non c'è un buon motivo per tamere o ritardare questo passaggio gli stessi servizi ad oggi gestiti da un amministratore di sistema su un server fisico ubicato presso il comune possono essere gestiti dallo stesso amministratori di sistema con un server virtuale in infrastruttura cloud e il comune ne ottiene i veri benefici dell'infrastruttura cloud sicurezza backup e rispetto per la normativa nazionale quindi completate il passaggio in cloud perché avrete tutte le cose che ad oggi probabilmente non ne avete garanzie di livelli di servizi protezione di dati eccetera eccetera ok dottor Poletti ha fatto un accenno sulle problematiche di lock-in ovvero il problema quando hai un unico fornitore per troppo tempo o da troppo tempo lock-in vuol dire bloccare è una condizione di dipendenza da un singolo fornitore che non è possibile sciogliere se non sopportando costi significativi per passare ad un altro fornitore per nostri sistemi di informatica stiamo parlando di la formazione che hai già investito software stesso che hai imparato a utilizzare forse non sai esattamente come funzioni devi migrare i dati al nuovo software i costi per fare il nuovo appalto questi sono tutti veri innegabili ma come ha detto il consiglio di stato in 2020 dice che la condizione di lock-in è determinata per gli esiti di una precedente procedura di gara conclusosi con l'acquisto del servizio o dal hardware dal medesimo fornitore ma è suscettibile di perpetuarsi per un lungo e se non lunghissimo periodo di tempo abbiamo visto comuni con lo stesso fornitore da oltre vent'anni e l'amministrazione allora quando dovrà sostituire questi mezzi questi servizi si troverà sempre a preferire il fornitore dal quale ha già acquistato al fine di evitare il costo eccessivo che il passaggio ad altro fornitore in un continuo replicarsi dell'identica situazione del vincolo indotto e non è un caso che nelle linee guida ANEC del 2017 sono stati forniti indicazioni alle amministrazioni per evitare di trovarsi nelle condizioni di lock-in e quindi l'ANEC dice molto chiaramente che le procedure negoziate senza banno per infungibilità da acquisire sono ammissibili solo quando è la cosa più interessante cosa si tende di fare per la parte informatica e la lettera B che dice assente per motivi tecnici infungibilità per motivi tecnici ma il codice precisa due cose uno che non devono esistere altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevole e l'assenza non deve essere il risultato di una limitazione artificiale anche il nuovo aggiornamento del codice che lascia un pochino di spazio per un possibile rinnovo limita questo al massimo di un triennio quindi non è possibile proseguire triennio dopo triennio dopo triennio infatti il consiglio di stato ha detto molto chiaramente e credo ha ribadito in modo indiscutibile cosa c'era scritto dall'ANEC se se un'amministrazione si trova in condizioni di lock-in il bene non è infungibile perché non vi sono altri operatori sul mercato ma è infungibile perché tale appare all'amministrazione che avverti la gravità economica del cambio e quindi per l'amministrazione il fornitore si presenta come un monopolista naturale pur non essendolo né fatti proprio per tale considerazione vi è necessità per l'amministrazione non solo di evitare di cadere nella trappola ma anche uscire dalla condizione trattandosi di fenomeni distorsivi della concorrenza e costi dovuti in prima battuta al cambio saranno nel lungo periodo recuperati attraverso risparmi di pesa e compensati dai vantaggi qualitativi e l'uscita dell'occhio può evanire solamente con una procedura aperta quindi per quanto sia doloroso approfittate e se dovete mordere sai la cosa questi problemi è passare alla procedura aperta con questo passo al prossimo argomento che è interoperabilità e in particolare vogliamo parlare della piattaforma digitale nazionale dati che è pensiamo così un piattaforma una base di dati centralizzati su cui le amministrazioni pubbliche attraverso i cosiddetti API application programming interface versano dati e prelievano dati questo esiste e qui sto facendo vedere un po' di slide fatti dal dipartimento per la trasformazione digitale per attuare il principio di once only e di ridurre gli oneri amministrativi siete annoiatissimi del sentire once only ma dobbiamo rivedere il comune nessuna amministrazione pubblica deve chiedere al cittadino alla persona di compilare i dati che sono già in possesso delle altre pubbliche amministrazioni o del comune stesso e nota bene che i comuni devono chiedere ai fornitori che i software siano abilitati a dialogare con la piattaforma digitale e il mancato adeguamento del sistema informativo all'interoperabilità alla piattaforma digitale comporta una violazione del CAD è l'articolo 18 bis si ricorda che una volta che un utente durante la severazione verrà controllato una volta se l'utente accetta di salvarlo non deve più inserirlo e lo verifichiamo qui sta parlando il dipartimento nella severazione lo verificheranno questo dove sono le cose che ad oggi si possono controllare ma queste sono alla data le vere fonti che i comuni possono interrogare tramite la piattaforma digitale abbiamo l'INPR dati del ministero dati dell'INPS dati della motorizzazione e così via sono tutte cose che il sistema informativo del comune può andare automaticamente a verificare la presenza di questi dati per un specifico cittadino prima di chiedere al cittadino di inserire questi dati ad esempio nei concorsi la verifica dei titoli accademici si può verificare direttamente ed è chiaro che questi servizi e basi dati sono chiaramente destinati ad aumentare quindi è obbligatorio che il comune verifichi e questo vuol dire chiedere questo al fornitore prima di chiedere al cittadino solo i dati non già presenti devono essere inseriti dal cittadino e inoltre una volta che il cittadino inserisce i dati non già presenti vanno versati dal comune alla piattaforma digitale per l'uso futuro dalle stesse o da un'altra amministrazione quindi si può prelevare dal PD&D e si può versare quando vogliamo come verifichiamo questi dati attraverso il logon con SPID attraverso SPID il comune riceve un elemento chiave quindi il codice fiscale che è necessario per fare le richieste alla piattaforma digitale quindi l'utente si fa il collegamento ai servizi online con SPID e attraverso i dati forniti da SPID si può andare a interrogare il PD&D e questo è qualcosa che va chiesto ai fornitori l'accesso a questi 28 servizi che deve essere effettuati tramite la PD&D e come dico vantaggi per il comune e vantaggi per i cittadini al momento i servizi più erogati risultano l'albo pretorio analisi di contesti il protocollo i dati storici e così via c'è una specifica richiesta del governo per i piccoli comuni quindi voi di richiedere ai vostri fornitori l'erogazione di servizi per il popolamento del sistema informativo dei servizi sociali Sius ok c'è un obbligo per gli enti erogatori di prestazioni sociali di alimentare in modo aggiornato i sistemi questo è l'esempio del comune che versa informazioni e non solo e ripeto questa è una specifica richiesta del governo ai piccoli comuni passando adesso al bando 141 l'esperienza del cittadino che sapete comporta due aspetti uno è l'adeguamento del sito diciamo del portale il rinnovo del portale e l'altro è la creazione di una serie di servizi online la gestione delle pratiche online qui riscontreremo l'altra parte abbiamo già visto il problema con un solo fornitore adesso dobbiamo capire i problemi quando ci sono diversi fornitori quindi quando ho diversi fornitori io devo garantire l'integrazione fra i servizi offerti dai singoli fornitori per esempio è auspicabile l'implementare un sistema di single sign-on che consente all'utente di avere un accesso unico e quindi un'esperienza facilitata il senso di single sign-on non è soddisfatto solo col speed perché se abbiamo ad esempio due fornitori che forniscono componenti del nostro sistema informativo gestionale e quindi alcune pratiche online vengono gestite da fornitori A e alcuni altri da fornitori B anche avendo speed fornitori A può dire deve collegarti col speed al mio front-end e fornitori B dice bene adesso deve collegarti col speed al mio front-end quindi il senso del single sign-on dando ormai per scontato l'utilizzo di speed e di evitare che un cittadino deve collegarsi due volte al speed se passa una pratica erogata da componenti del sistema informativo gestionale di un fornitore ad un'altra pratica gestita da un altro fornitore poi le pratiche sono tanti ci sono 20 criteri di conformità che saranno controllate durante l'asseverazione cittadino attiva 18 criteri di conformità più le raccomandazioni poi si fa notare nell'avviso che sono considerate obbligatorie tutte le buone pratiche che rendono il sito utile affidabile eccetera eccetera ok e le raccomandazioni progettuali non sono oggetti di verifica tecnica e asseverazione ma rimangono valide secondo le indicazioni di legge linee guide e buone pratiche vorrei darvi un esempio c'è l'area personale ok in cui in questa sezione no c'è una delle sezioni che deve essere presente all'interno del dominio istituzionale deve rispettare tutti i criteri ok non è parte integrante ma è importante che il cittadino abbia un unico punto di accesso come dicevo prima un single sign on ed è inoltre importante che ci sia un'unica area personale anche se ci dovessero essere i servizi gestiti da fornitori diversi infatti il bando 141 prevede un area servizi e i criteri 18 19 20 richiedono esplicitamente la possibilità per il cittadino di visionare tramite un area personale o codice univico lo status della propria istanza quindi l'idea è di avere un'unica area personale in cui vedo tutte le mie pratiche col comune e non le pratiche gestite da un fornitore e un'altra area personale con le pratiche gestite da un altro fornitore questo è l'obiettivo interpellato specificamente su questi punti il dipartimento per la transizione al digitale ha fornito alcune indicazioni chiare dice sull'integrazione col sistema di protocollo qui abbiamo il problema di protocollo come accenato da Claudio Forrieri e da Tappoletti fornitore A gestisce il sistema di protocollo e quindi naturalmente le pratiche online gestite da questo fornitore avranno un'integrazione naturale col protocollo ma le pratiche di fornitore B devono integrarsi col protocollo gestite da fornitore A dove è garantito che il fornitore A rende disponibile gli AP al fornitore B per far sì che il secondo fornitore può interfacciarsi naturalmente col protocollo ma il dipartimento dice non c'è una norma specifica che obbliga un fornitore in tal senso e per vedere che il protocollo sia necessariamente otto ma dovrebbe piuttosto essere il comune a pretenderlo ok poi sull'unicità dell'area personale la stessa area personale non è di per sé obbligatoria anche se fortemente consigliato senza condizionare negativamente l'esito della separazione in tal caso il cittadino dovrebbe ad esempio accedere alla propria pratica da un link in una mail user experience certamente non ottimale va da sé che data la sua importanza sia fortemente consigliato averlo e che senza integrazioni previste contrattualmente l'ente possa riscontrare difficoltà però il DTD dice in generale non abbiamo rilevato particolari rigidità dai fornitori quindi dovrebbero e potrebbero essere gestibili anche alla luce del periodo di mantenimento altro contratto quindi la sintesi della soluzione di queste problematiche sono fondamentalmente tre il primo il comune deve chiedere deve insistere due come ha detto il dottor Poletti l'asseverazione di gruppo quindi tutti per uno e uno per tutti o non viene asseverato se i due fornitori non riescono a far sì che le cose funzionino come vuole l'agile e il DTD niente asseverazioni niente soldi per nessuno e infine anche a seguito delle asseverazioni il miglioramento può essere preteso attraverso i contratti di manutenzione insistendo per l'inserimento di queste clausole infine vorrei toccare quello che ha discusso anche il dottor Poletti il passaggio di competenze guarda in un comune senza esperti in IT che è molto tipico del piccolo comune se l'artidi lascia va in pensione come farà il dottor Poletti a fine anno se cambia d'attore di lavoro se va in malattia eccetera si rischia di non avere nessuno non solo che non è un esperto in IT ma non conosce neanche la strategia per la transizione al digitale ok o lo stato di attuazione della transizione digitale o si è in grado di governare questi fornitori e in tal caso saranno i fornitori a governare la transizione al digitale del comune quindi proprio in contesti come questi emerge con forza la necessità di adottare soluzioni organizzative innovative per migliorare l'efficienza operativa e garantire un servizio di qualità in questa realtà il ruolo del responsabile della transizione digitale è particolarmente cruciale per innescare percorsi virtuoso e fra questi c'è l'ufficio per la transizione al digitale attenzione la nomina dell'RTD è a seguito della nomina dell'ufficio l'RTD è a capo di questo ufficio e la CARE dice ciascuna PA affida a un unico ufficio la transizione e poi c'è l'RTD e come ha detto Claudio per quanto può essere difficile per quanto un RTD nominato in associazione può ficarsi il naso dentro vostri comuni vi posso solo dire che ci sono molti comuni in tutta l'Italia che hanno costruito un ufficio per la transizione al digitale e un responsabile per la transizione al digitale in forma associata e di recente proprio due giorni fa l'Agenzia l'Agid ha pubblicato un vademicon sulla nomina dell'RTD e la costituzione dell'ufficio in forma associata quindi il vademicon vuole fornire indicazioni e strumenti funzionali alle amministrazioni che intendono valutare le opzioni di questa nomina nello stesso momento propone esempi e modelli che possono fornire spunti funzionali anche a soluzioni di nomina in forma associata e o gli UTD già adottati da altri ripeto può sembrare difficile ma abbiamo molti esempi dove funziona e funziona bene e di sicuro funziona meglio di avere un RTD che non ha le necessarie competenze informatiche giuridiche e informatiche giuridiche e manageriali richiesti per il ruolo e si trova spesso a mettere le mani nei cappelletti ma cosa cosa sto facendo qui quindi la politica di gestione dell'amministrazione deve deve incoraggiare l'ufficio per la transizione al digitale e soprattutto l'RTD a condividere le proprie conoscenze in riunioni periodiche e documentare i processi e delle procedure a loro specifici e questo va fatto anzitutto con il piano triennale ICT che non è un mero adempimento amministrativo è il cuore della transizione al digitale e dice come nella logica della transizione al digitale guidato prima di tutto dall'Unione Europea e poi dal governo nazionale con il piano triennale nazionale come stiamo muovendo come comuni cosa stiamo attivando quando con chi come qual è il budget che abbiamo messo su questo è il piano è il roadmap per come vostri comuni stanno facendo questo e gli obiettivi del piano va ovviamente inseriti nel piano nel piano delle performance perché sono specifici gli obiettivi del piano triennale sono gli obiettivi di informatica per vostri comuni ma anche danno il guido in caso di transizione ad un nuovo RTD secondo elemento è chiaramente formazioni in quasi ogni comuni dove FAST ha lavorato abbiamo rilevato una terribile carenza di formazione nella materia di informatica dalla sicurezza al tutto il resto le persone sanno fare il loro pezzo del sistema informativo ma non hanno una visione più ampia quindi si deve intensificare la formazione ci sono i corsi di syllabus e anche altri e poi come ha suggerito il dottor Poletti c'è anche il processo di mentoring e di accompagnamento che condivido completamente poi ci vuole una lista di controllo di processi di procedure inventare altre informazioni cioè scrivere le informazioni e poi come già detto si deve iniziare presto un'amministrazione avrà bisogno di tempo per pianificare la transizione e formare un'altra persona per il ruolo non è qualcosa che ci si fa in due giorni il mentoring e l'accompagnamento è qualcosa che deve iniziare se non un anno almeno sei mesi prima in modo di assicurare che una delle leve strategiche chiave di tua amministrazione non viene lasciata senza guida e con quello vi ringrazio e ripasso la parola ad Irene Allora grazie ricondivido anche il mio schermo e ringrazio David veramente di tutti questi di questa interessante presentazione di tutti gli spunti che ci ha dato ringrazio chiedo se ci sono naturalmente l'ho chiesto in chat ma nessuno ha risposto se ci fossero domande curiosità da parte di chi di voi è in ascolto insomma ovviamente ci fa piacere insomma poter poter rispondere e se non ci sono io intanto insomma ecco oltre a David appunto ringrazio Claudio Forghieri che appunto ha realizzato l'intervista e ringrazio anche Massimo Poletti che appunto ha dato la sua testimonianza purtroppo diciamo registrata perché oggi aveva un altro impegno e quindi non ha potuto personalmente partecipare oggi però ecco appunto sono stati tutti spunti molto interessanti che David ha ben ripreso e che credo continueremo ad affrontare anche nel prossimo webinar che avremo l'11 di luglio e come vi dicevo sarà l'ultimo insomma dei webinar che faremo insomma prima dell'estate le attività diciamo con le vostre amministrazioni continuano diciamo però il ciclo di webinar informativi insomma si interrompe e ricominceremo a settembre ottobre appunto dandovene notizia e dicevo appunto che questi spunti e queste cose saranno riprese nel prossimo webinar che ci sarà l'11 luglio sempre nello stesso orario dalle 15 alle 16 e 30 e appunto Michele Vianello che credo insomma abbiate già conosciuto in altri webinar continuerà un po' a parlare diciamo di quali possono essere le forme più efficaci proprio per la gestione e appunto ne parlava adesso David in conclusione del suo intervento proprio per gestire in forma associata la funzione del responsabile dell'ufficio per la transizione al digitale che credo come dire sia una cosa molto importante in amministrazioni dove ovviamente le forze sono limitate però le cose da fare sono tante gli impegni sono gravosi e quindi insomma è bene il più possibile condividere anche con queste idee appunto che ci ha dato Massimo Poletti del mentoring cosa che anch'io condivido molto e quindi ecco è bene diciamo che cominciamo a lavorare insomma su questo su questo fronte insomma ognuno per quel che può e come può e ricordo a tutti le nostre mail che sono appunto qui le vedete sullo schermo quindi ci potete scrivere abbiamo realizzato anche un focus su tutte le attività che abbiamo fatto finora con con Fast le troverete a questo le trovate a questo indirizzo che sta sempre su comunque su territorio in rete è la la prima notizia la prima notizia fissa diciamo che che trovate vi chiedo ancora per piacere di dare il vostro parere il vostro gradimento su questo webinar che abbiamo realizzato e ringraziarvi tutti di essere insomma stati con noi fino alla fine vi do appuntamento all'11 di luglio e ringrazio ancora tutti i nostri relatori grazie e arrivederci a tutti sì